ciao manutentori bentornati nel mio garage io sono stefano parliamo ancora di torce ci sono un po di produttori di torce che mi hanno adocchiato e hanno iniziato a farmi delle proposte siccome io adoro le torce a me piace fare le recensioni soprattutto se sono di buona qualità come quella che vi presento questa sera un marchio già apparso diverse volte sul mio canale e che continuerà ad apparire perché produce torce di ottima qualità true night qui abbiamo il modello tn 12 pro andiamo a vedere ma prima sigla eccola qua solita scatolina di cartone di true night robusta ben fatta per quanto molto sobria all'interno nel suo sacchettino la nostra torcia è una torcia dalle fattezze classiche dimensioni medie direi un look tradizionale per quanto riguarda true night anche se ha qualcosa di più rispetto a quello che true night ci ha abituato per questa classe di torce ma lo vediamo tra poco dentro abbiamo questa bella custodia con velcro robusta in cordura sia gancio per appenderla che passante per la cintura la clip per permetterci di utilizzare la torcia sia a cintura che sulla visiera di un berretto tra l'altro è ad esse in maniera da essere innestata sia in questo modo che in quest'altro quindi in due sensi doppio uso un laccetto due guarnizioni e anche questo tappino bianco che serve da andare a sostituire la guarnizione qui sotto non è facilissimo perché bisogna svitare la ghiera e andare a sostituire la guarnizione spero che non debba mai capitare e c'è anche un tappino che copre l'attacco di ricarica usb di tipo c per la batteria ecco una cosa che hanno sempre le torce true night e questo sistema di carica tradizionale quindi attenzione a chiudere bene il tappino altrimenti non è garantita l'impermeabilità impermeabilità che se stiamo attenti è dichiarata in ip68 quindi sommergibile fino a due metri dentro c'è un cavetto di ricarica tradizionale quindi di tipo c e usb di tipo a da questa parte è il foglietto di istruzioni nel quale non appare l'italiano leggo l'inglese abbiamo una luminosità massima di 1900 lumen in turbo per sette minuti a 1900 lumen più 130 minuti a 477 lumen altrimenti una luminosità di 550 lumen in modalità high alta per due ore e mezza è già più ragionevole oppure 220 lumen per 9 ore oppure ancora 50 lumen per 46 ore o addirittura 0,5 lumen per 37 giorni in modalità strobo invece raggiunge un massimo di 560 lumen per quattro ore e mezza la gittata dichiarata di 380 metri massimo questa della gittata va un po' interpretata perché in realtà abbiamo torce che dichiarano molti più lumen ma meno gittata o una gittata simile questo dipende da come è fatta la parabola e da quanto ampio il raggio poi lo vediamo come vi dicevo è resistente all'acqua ipx 8 quindi sommergibile fino a due metri e resistente all'impatto fino a cadute da un metro e mezzo su pavimento duro per accenderla basta premere qui e si illumina il led al centro del pulsante in blu si è carica in giallo se è a metà in rosso si è scarica premendo una volta il tasto laterale si accende tenendolo premuto passiamo tra le tre modalità bassa media alta se invece lo teniamo premuto si attiva la modalità moonlight eccola qua è molto poco luminosa quindi con tutta questa luce si vede poco premendo tre volte passiamo allo strobo premendo invece due volte abbiamo il turbo che cos'altro ecco qua il tasto posteriore questo la fa diventare proprio la torcia tattica perché la torcia tattica tipicamente viene impugnata in questo modo è accesa col pollice si può lampeggiare oppure accendere stabilmente in turbo questo biglietto che penzola non l'ho ancora tolto perché è quello che ci indica che quando riceverete la lampada a casa la torcia a casa la coda sarà leggermente svitata questo adesso lo possiamo anche togliere andiamo a vedere che tipo di batteria c'è all'interno ed è una 18 650 classica da 3400 mAh direi che non ci rimane che andare a fare le prove in esterna eccoci con la nostra true night questa è in modalità moonlight praticamente non riprende nulla non illumina nulla illumina pochissimo più o meno un metro ma d'altronde 0,5 lume non lume adesso un piccolo neanche andiamo in modalità bassa vedete che ha un fascio estremamente concentrato molto molto concentrato infatti riprendiamo il fiume vedete proprio fa una pallina e qui mi aspetto che abbia una gittata molto lunga mettiamo questa luminosità media guardate quanto è luminosa al centro ma quanto poco ai bordi è molto molto concentrato caccia alla nutria mettiamo luminosità alta questa è la luminosità alta riprende molto bene dove illumina ma vedete che ha un fascio molto molto concentrato quindi proviamo può vedere nella distanza come se la cava infatti illumina benissimo nella distanza anche la in fondo però appunto come dicevo prima ha un fascio molto molto concentrato si riesce a vedere anche la in fondo quegli alberi che saranno a 200 metri li illumina abbastanza bene comunque ripeto è una torcia dall'utilizzo credo abbastanza specialistico perché ha un fascio molto molto profondo ma non molto ampio bene quindi che dire di questa tn 12 pro è una bella torcia nella tradizione di true night a questo comando in coda come torcia tattica discrete prestazioni non è potentissima ma si difende bene ha un fascio molto concentrato e per questo con soli 1200 lumen riesce ad avere una gittata dichiarata di 330 metri io non ho ancora modo di misurarla ma comunque tira abbastanza lontano seppure con un fascio abbastanza concentrato lascio naturalmente il link in descrizione e nel primo commento per acquistarla vi invito a mettere mi piace al video a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità naturalmente oltre al link di questa torcia ne lascerò altri sempre di true night e altri link per fare acquisti su amazon senza spendere nulla di più e aiutare il canale vi invito poi a venirvi ad iscrivere gruppi facebook consorzio e manutentori indipendenti gruppo di fai da te ma soprattutto votato alle manutenzioni sia a casa link che sull'auto al gruppo kubrick system italia nato da poco ma in rapida crescita che parla di quelle fantastiche valigette delle quali ho già parlato nei miei video andatele a vedere che sono veramente un ottimo prodotto poi il gruppo parkside addicted parkside dipendenti uno dei tanti gruppi parkside se ne sentiva la mancanza infine il gruppo italiano utensili tech po ottimi utensili che sono adatti anche all'uso professionale e ce lo dimostrano molti iscritti al gruppo venite anche lì a un bel gruppo si parla di bei prodotti anche in quel caso ci vediamo la prossima volta ciao